FELIZI ARIGESTO FIDERA MEEEEEEE Ehi, cosa manca? il microfono è accesato alle camera? si, raga qua la vita è lunga e dura il prossimo che mi dice che io non lavoro che sto facendo un lavoro di 8 persone in due già ne andiamo a mandare un paio sulla sedia a rotelle altro che Chris Blake nooo poverino comunque andate a fare un video guarda che ora è le 11.03 io le 11.03 sono a lavoro di solito del mattino e non le 23 e oggi purtroppo sono qua a registrare questa e con questo inno ai delfini andiamo subito intro che mi se ne tagga sempre un cazzo bravo passo ad un'altra imperdibile puntata di The Voice si e chissà come tremano chissà come tremano la salita si non c'è per il cazzo vai 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 veloce veloce sono convinto di aver fatto una bella scelta si eh te l'ha detto Mohamed no adesso comincia una puntata con la canzone che non me ne frega niente davvero ascoltami ma tutto sto fumo guarda che forse gira tutti cosa fai con sta linguetta mi è venuto un barzotto a vedere sta roba però si? te la butto? si un po' adesso sono comparsi tutti magia delle magie non riesci più a schippare che magiona che si girino le sedi più famose in Italia ma perchè lo schippa quando vuoi? pensavo chi si gira non li tira ma si oggi sa che la Trisoi ne abbiamo bisogno lei ha la Dicted beh buongiorno signorina minorenne vai mi sa che Gigi D'Alessio brava brava ma come è brava? brava non ha fatto niente è brava guarda che è brava che è brava brava sei brava ma perchè? oh canta in italiano eh Gigi D'Alessio è tua bravissima non mi piace queste voce su questo è Gigi D'Alessio no però ci sta che se la prende una brava dai non lo so ma mi sta solo rotolando il coglione adesso ma anche a me però mi è rotola verso di lei parlo? è minorenne rolling to the minoren no non è convinto Gigi perchè non l'ha vista è fio ebbah l'età chi è? secondo te chi potrebbe essere? io te l'ho detto eh sei illuminata hai l'età di mia figlia dai basta brava 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 ma che voce hai? non la tua per me e vengo dalla provincia di Avellino no mi sono andata vicino aaaaa lo sapevo e vengo da Napoli no da Avellino bene vicino e lei ha già visto il suo futuro che gli passano avanti proprio guarda no però così no guardala guarda la tristezza degli occhi guarda guardate gli occhi mettete la mano sotto gli occhi adesso li angrandisco Gigi che bella la frase allora è cominciata da 2 minuti e 06 la trasmissione mannaggia il cazzo comunque bravo Gigi se avessi anche l'appanecchio era proprio il top ma perchè vi scambiate le informazioni? a me piace l'appanecchio ho capito vai mi aspettavo di trovare una donna molto più ugra mi sono girato perchè è meglio intanto non mi avessi mai scelto mi sembra che la scelta se ci fideressi io qua che cosa vogliamo contendere neanche la Lamborghini con Gigi adesso qua non la caccano proprio andrò per scontato povenina e adesso ne facciamo allora allora sentiamo la risposta della magnifica Electra hai una voce quazzesca su cari hai cantato una canzone cosa? mi è piaciuta anche la tua scelta un po' tradizionale che comunque insomma Borghini brava, brava conservatrice la canzone dice e io so dov'è il tuo posto ma che cariooooo sappiamo tutti ma lo sa meglio Gigi dov'è il tuo posto hai cambiato degli italiani ah non ti lasciare appindolare sai oh dove sei? dove maledettissimo pezzo di stella cadendo hai colpito il mio cuore dimmi che è un'altra canzone dimmi che non è una frase fatta ad hoc per il momento aspetta ma può essere lui è un generatore di frase ad hoc per il momento ho capito lui non trova dove sei quindi non si sa dove non lo trova comunque non lo scorge nei pezzi del suo cuore questo maledettissimo all'interno c'è anche del rituale o della magia dell'esoterismo pezzo di stella oltre alla metafisica in quanto le stelle sono masse gassose che bruciano a chilometri di distanza è la lezione di scienza può essere finita la metafisica no? che cadendo hai colpito il mio cuore quindi metafisica surrealismo metafisica è metà surrealismo metafisica è metafisica ecco è anche kafkiana questa frase si anche la faccia di Gigi stavo mettendo kafkiana si forse quasi scaraffone andiamo a vedere andiamo eccolo 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 guarda cosa intende i fratelli Pippotto guarda stai intendo stai dando il 5 lo so sono un merda stai dicendo nooo stai dando il 5 si 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 nooo i fratelli cos'è che ha detto lui? ah è una frase delle mie canzoni ah è una frase delle mie canzoni c'entra lì è un autocitazione è un autocitazione è un autocitazione ah l'ha imparato adesso l'autocitazione è Gigi D'Alessio esatto oh ma è esattamente la stessa cosa mi avevamo detto forse non abbiamo mai detto una cazzata attenzione mi ha detto i baci perugia dove sono mi ha detto Morgan ma secondo te ma secondo te sei la voce giusta per me per le mie mani per le mie mani no 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 Gigi Barlo Barlo torna qui capiti il letto perchè viaggiamo sempre sul filo delle gare ho capito che i genitori sono coscienti ma no Gigi con le mani così subito ah no sta spellando cosa sta facendo tu hai la voce perfetta per le mie mani mannaggia il cazzo sembra il burattinaio no sei la gomma piuma c'è la gomma piuma di Gigi è proprio quella vorrei essere il pianista di carne no no si da un pianoforte e anche lo pigliamo in il culo e mi sto dicendo per te dille tu le frasi ce le suggerisco io ma io ragazzi bravo 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 combatti il fuoco col fuoco ma ci direi io te le sto guardando te le sto uscendo mi sto giudicemela una su via se la tua vita fosse un pianoforte ti batto tutti i tasti neri no se la una fosse una canzone guarda hai cambiato impostazione l'avrei scritta io e la voce sarebbe la tua no devi andare con eletta hanno fatto le squadre sei fatta per me parola di morgan parola di morgan parola di morgan ma perchè il padre vuole chiamata quella lettera sono di salerno eri Gigi ride ma non gli piace questa cosa sorprendi tutti carmen la lettera ha detto la cosa più bella del modo sorprendi tutti non essere così scontata Gigi carmen Gigi carmen pensa a papà un male che gli dai o dispiacere Gigi no 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 Morgan ha accusato ci credeva davvero male che brava che è lei oh che non era giusta brava ha andato a salutare la mamma subito la mamma le streghe le streghe le streghe neanche ha salutato i giudici se n'è andata grande grande non grazie un competente capito cosa intendo capito capito si non ce ne frega un cao le vostre considerazioni tra di voi quanto non me ne frega solo qua di morgan fare la pipì vabbè andiamo a ah ma come assieme scusami scusami caro morgan è rimasto un po' sulle sue è stato un po' dimenticato perchè è piantato lì così sul muro io ho due domande perchè sono andati insieme a fare pipì e non hanno chiamato morgan io ho due domande stiamo attenti a come trattiamo questo argomento perchè la scena che ho visto è stata ti prego barlo ti prego siamo appena usciti da un processo ti prego uè ma non è ora di andare a fare la pipì? no eh si andiamo a fare la pipì eh è ora eh anche io era la morghini ma chissà perchè non hanno chiamato morgan e morgan era già lì così ha un cicato sulla sedia così una lucertola cattiva mi sa che non è il caso di chiamare anche morgan che l'ha già fatta l'ha già fatta e due di pipì io mi dissocio da qualsiasi cosa voi pensiate e ora li farà tutti eh dai non è ora è comfy break ragazzi altro che cosa fa? gli tocca la barba gli faccio e lui è nervosito da questa cosa e lui è geloso e gli ha sbagliato anche te lei è fantastica te lo giuro vabbè basta che cosa ha fatto? che cosa? che cosa? che cosa? che cosa? che cosa? oh oh questa è bravissima questa è fortissima che dico io è ninazistica sai perchè c'hai i capelli raccolti in alto? il mio nome d'arty il mio nome d'arty in inglese significa cacciatrice io sono Diana cioè dietro c'è scritto Roma o morte grosso così fada fada non c'è nessun fada aspetta stoppa che mi sono fatto male alla schiena ahahah aiuto non riesco a stoppare questa gag ci è costata una russazione toglimi la schiena toglimi la schiena eh non posso scriveria Arozzi io ho una sedia e non ci faccio muovere la sedia Arozzi è stata spostata da Barlo mio Dio che male servirebbe anche a me una sedia Arozzi grazie no non le faccio più ste cose senti però in inglese significa gacciatrice gacciatrice ti prego mettiti il cappellino che mi spaventi i bambini almeno non deve fare il pipotto sul femminismo non vorrei risultare e invece sei risultata veramente prolissa e quindi cambierò vediamo com'è tanto lei sicuramente c'è del funky nell'aria ma cos'è che c'è il sesto senso oh Morgan California love hai la pina oh California blocca 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 bloccate gue non è male è una delle più brave che ho sentito finora Morgan è un genio stratega bastardo bene allora Lamborghini blocca gue e te la pigli tu tanto Gigi questa non la vuole perché è maggiorenne ciao ciao non è male eh meglio questo flow di quello di prima io l'ho vista eh la sorella è la maglietta dei Sex Pistols quei fake di merda guarda che balla qua ma è si fa il pentolone la puletta si vabbè ma che ho fischio questa ragazza no la non deve cantare guarda che fidati si è una delle migliori che abbiamo visto qua si si no che abbiamo visto punto ciao allora no fammi capire ma fammi capire se vi siete girati o no 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 ma gue ma gue volevano bloccarle hai capito mannaccia cazzo e io non faccio la figura del tuo cazzo noi gue lo prendiamo sempre in giro ma sappiamo bene che gue è uno dei più svegli lì dentro ma lo prendiamo in giro perché lo odiamo mica perché è sfigato però la maglietta del Sex Pistols facciamo finta che non ce ne frega un cazzo piccola parentesi no tanto non me ne frega un cazzo io voglio che tu parli della cantante allora io voglio parlare del mio esame di tazza media e dei Sex Pistols c'è una connessione tra i Sex Pistols e il mio esame di tazza media allora facciamo una cosa raccontami cosa ha detto Sex Pistols dai pure la scelta a mia Sex Pistols era il punk fuffa va bene vai vai allora Morgan è l'uomo bottiglia gue è l'uomo pietra e Gigi D'Alessio cos'è ha veramente detto l'uomo pietra si Gigi D'Alessio è l'uomo umano è l'uomo di te l'uomo scheda guarda com'è accusato guardalo lo farei io l'uomo pietra tu hai già il potente della bottiglia guarda guarda da me è piaciuto tanto la parte rap lui è il re del rap quindi io no io non sono re del rap il principe ma magari ma magari allora dunque voglio essere costruttivo canti molto bene è un timore molto black io non avrei idea ma no è un po' scassata il grattino era male capisco lo sforzo anche di dover mettere su un pezzo così una tua parte inelita si anche perché poi ti porta un flow di Tupac c'è un pezzo che dici come faccio a coverizzarlo chiedi lo Jamie con quello che giustamente è l'atteggiamento che un rapper deve avere improvvisazione fammi parlare con coraggio calmi hai sentito la tensione stiamo dicendo con coraggio e stile la tensione e te sei fatti e sei sentito con un c***o tensione ma la c***o delle origini ci mancherebbe eh vabbè allora c'erano i due io capisco cosa sta dicendo un flow un po' vecchio quello che ti dicevo la pina quando ti ho letto la pina perchè il flow è proprio quello tradizionale ma anche il beat è vecchio di 25 anni fa esatto non è che vuoi fare la trap sul beat vecchio capito schiusco e Morgan diceva ma la tradizionale è tradizionale però qui da discografico facciamo il verme sui random c che c***o lo so però qui da discografico cosa devo dire ah allora è l'uomo disco non è l'uomo pietra l'uomo cd ecco l'uomo cd ecco lei era vecchia probabilmente lei era vecchia posso dire una cosa diciamo che questa era l'origine anche per me puoi non ti muovere così ti prego ti sto dicendo che comunque è cantata da paura hai scelto un brano da paura vai con Elettra vai con Morgan Elettra l'ha fatto il quattro e il quattro si Morgan gli fa fare l'Elettro break beat anche perché a me non è che deve per forza piacere ciò che mi assomiglia anzi spesso mi piacciono addirittura creatura del sesso opposto al mio figurati non gli ha detto niente lei voleva risponderli ma mi sei piaciuta molto soprattutto nella parte cantata credo che lei che è una rapper pensa com'è felice di sentirselo dire sai cantare anche in italiano? si posso chiederti qualcos'altro ti piacerebbe sentirmi? vorrei sentirti così no 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 questa non la posso tenere Barlo taglia allora ahah Barlo tu puoi fare tante cose si anche meglio degli uomini qualcosa di più fresco gli ha chiesto se può fare il regaton per favore sono molto onorata grazie Morgan per esserti girato però? perché sono combattuta sotto un certo Elettra Elettra vai Elettra Elettra No non mi illudere Elettra non mi illudere poverino dai che sforbriciate tutta sera le jacuzzi scelgo Elettra Lamborghini nooo che padre mi chiara felicissimo padre si weeey padre ha visto la fregna ha visto ha sentito Lamborghini con la tanica brucia tutta casa sei richissima mia figlia è ricchissima brucia l'appartamento se non avrei capito bene cosa è successo a questo punto mia figlia è ricchissima Lamborghini è ricchissima granfica le ha detto davvero le ha detto così ha capito tutto tranne lei che è ingenua guarda come se ne va allupata ragazzi potete guardarmi fatemi dei meme dell'allupazione e dell'allupatezza e della Lamborghini pure dobbiamo invitarla qua subito si assolutamente voi dite tanto che ha proprio una cosa vecchia ma in realtà era fatta benissimo parliamo la stessa lingua si o come si chiama sta ragazza odio non mi ricordo odio odio non mi ricordo odio non mi ricordo è un bel nome odio non mi ricordo quindi odiare odiare e dimenticare vaffanculo odiare e dimenticare saranno le poste di mangiate a Kid Boyd si odiare e dimenticare e mangiare credo odio e dimentico e mangio minchia si allora cazzate a parte a me piaceva un sacco la rappata così vecchia si perché a me la roba nuova fa schifo sappiamo poi racconta che la Pina è una delle mie rapper preferite dei miei rapper preferiti quindi presenza scenica c'è un po' troppo novanteggiante con queste mossette da ritardata però ci sta sembrava un po' lo stereotipo del rap preso per il culo da canale 5 ci stiamo giustificando per i giudici perché se no ci dicono che siamo misogini ah ok no basta cioè il pezzo era figo lei è brava a me è piaciuto però per l'industria discografica ho capito ho capito perché Guay ha detto di no io secondo me è una delle meno peggio che ho sentito anche a livello mainstream andiamo avanti dopo la Wunziker però oh cazzo Ed Sheeran mi sono appassionato nella mia vita appunto ci sono connessioni usb midi allevo le mie galline grande vabbè è una fusione tra me e te si che non deve mai avvenire no perché se no è uscita una merda e poi viviamo ogni minuto un quarto di barolo alla volta ma chi cazzo è planetiche orange lui non è uno di noi ah l'elettronica ecco ma perché li tratta come dei babbi di micchia lui si chiama l'elettronica ah si loro sono gli Africa Unite mecchiati male male botto Giovanotti e lui non piove beh meglio di Giovanotti grazie a cazzo ah senza la sua fiducia c'è la debito io sono Giovanotti bravo ma però Giovanotti no raga il padre del rap italiano non mi ero accorto la tua trasformazione Giovanotti è il padre indiscusso del rap italiano italiano in Italia precursore pioniere e anche moderatore a volte io comunque preferivo essere orfano io quanti anni hai? ne ho 37 e sono Massimo ah micchia si sono più giovani ma è lui che non li porta bene no tu facevi tutto dal vivo? si io ho sintetizzatore collegato a un vocoder con delle USB ho delle anche strane infrequenze gastro astrali però ho anche la mia parte primitiva legata alla natura cioè io vado nell'orto coltivo le galline allevo le quer se vuoi però è anche la mia parte spirituale che si interseca con un biomeccanismo astrale anzestrale sei troppo uguale Giovanotti no ciao faccio come un USB no anzestrale che si collega con il madre di tutto insomma la mia musica è un po' così è un'intersecazione come un'altra cosa ho mancato tecnicia e retro è quello che ho detto io esatto tu hai fatto un pezzo di lurid lurido di lurid veramente ne conosco poco oh ti capisco amico ti capisco guarda che quando era Lamborghini che ti capisco cuore io non so io non so manco che cazzo sia lurid è sempre tutto perfetto ragazzi è tutto sbagliato ed è tutto perfetto perfetto day non sei perfetto perfetto day famosissima perfetto day train spotting l'abbiamo visto tutti vabbè ha detto che non ho è train spotting non è uno a caso lo so lo so lo so zia lo so che lurid non è a caso lo so che lurid non è a caso lo so che lurid non è a caso c'era simpatico finchè non parlava cioè non c'è solo lurid che racchiude tutto ragazzi ma dico io no ma te chi te l'ha fatto fare buttare lurid guarda e metto fatto ragione lui sono ma se lo sapevo portavo un'altra cosa zizi aia è la mia chitarra te lo meriti che ti senti Morgan non perdi il cazzo eh loro si vergognano ma chi la vuole fare si è lui o l'altro? ma che petellata ti ha vabbè Morgan non ce ne prendo il cazzo di quello che hai fatto cioè pensavo che facevi una cosa più figa vabbè sta poverino che deve vabbè legge di una riunione di condominio di una riunione di condominio perchè sei ubriacato lì no io ho salita la roba ahahah no 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 è stata una cosa pazzarella ma pazzarella pazzarella perché? mi mancano dei membri comunque conoscevo anche il bravo dai riconosciuto che lurid che merda che siete che ha pure regalato il cilio di lurid dai non conosce tanto lunedì adesso tocca a te adesso devi scegli gi gi sei il teatro fuori grazie si 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 Sento un certo legame Con? Lui pequeño guarda Non ho deciso Lui non vuole avere a che fare con Morgan Lui non vuole avere a che fare con loro Non capisco Allora amico mio Se tu non hai voglia di andare in un talent Per farti dire alla gente Non andare Perché poi Se vai davanti a 4 persone Che devono giudicarti Ma sono lì per apposta Per giudicarti E ti giudicano Poi non ti dipendono Secondo me va con Elettra Perché Con Morgan non vuole più Avere ciò a che fare Sì Oddio Andato in over Con quel pequeño Gli ha fatto salire la roba Quei pequeño Gli ha fatto salire la roba Dice la attra Dice quella un po' più Ma Andiamo avanti Dopo questa Fantastica cosa Io non ce la faccio Va bene così Andiamo avanti Dai Dai Traffi Direi La roba E beh Morgan Tu non mi vuoi Quindi non dico nulla Perché dici che non ti voglio Succa Guarda Spero Lui è in tensione Adesso si spara Inferno Inferno Bravo Inaspettabile Mamma mia No Summate sulla vena Di prima No raga Summate sulla vena Di prima Se andiamo Puoi tornare per favore Regia Guarda Te lo metto senza guardarlo Ricordatelo Adesso in questo momento C'è l'immagine Questo è un modo di fare Immaginatevelo Sì Se vi ricordati Come lo conosco bene Sto stronzo Se quella vena gonfia Che va qua Andiamo con un bisturi No Ovviamente Opportunamente Igenizzato Aspetta Sono dovevo arrivare Mi sto dissociando In una stanza asettica Vedremo Che al posto Di zampillare del sangue Io mi sto dissociando Una strana sostanza bianca Quella è la materia grigia E' arrivata la svampata Di cosa le è arrivata La svampata Di Va bene Sì Possiamo arrivare l'ossigeno al cervello È importante Ossigeniamo il cervello Non così Cos'è quella Questa di buona Che sereie Quella è la mamma Che la consiglia male Mamma è La mamma è una baronessa Della luffaffe Oca Oca Sì 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 Cilissimo Vontaggio che non ce ne frega un cazzo Suona al piano Si potrebbe vedere anche così De voi Si hai visto Su Rai Radio 2 Sì 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 signora Ventura Sì signora Ventura Vai Eh si tenendo te in pigiama Eh quel Ah col pianoforte caccia Sì chissà se la porto Voglio capire cosa sono sti rumori Adesso Amiga è fastidita Ti prego Ti prego Aspetta Vuole capire lei Ho capito E' lì per capire Cerchiamo di capire Hanno sposato anche il pianoforte Cerchiamo di capire Ma perché C'è questo rumore Sono in due Gigi D'Alessio Gigi D'Alessio Pianoforte è sua Lily Allen La voce è fantastica Facchio eh si chiama La voce è fantastica Canterà anche in italiano Credo che venga anche Riproposta da qualcuno Della giuria Vedremo A volte Eh sì Davvero Wow Ma Elettra girati Wow E' meglio di B&I Ma sono lì Siamo lì Porca troia Gli ha detto Gli ha detto Guepecregno Che chiami Chi sei Sono Sofia Ho 16 anni E vengo da Roma Io capisco solo che E' giovane Ha 16 anni E' donna Ed sono al piano Non deve capire Non deve capire Non ha neanche detto Mi alzo No no Che cazzo si fai Lì scendi Che faccio io al piano Non è che ha detto T'accompagno Wife C'era già alzato E prima si è alzato Grazie anche in italiano Poi ha detto Fammi sentire qualcosa Stava già accordando Certo Sì Temporale Ma Però la tiene La frequenza brutta Però la tiene Si è emozionata Gigi Gigi E allora Chiudiamo tutto Vai Chiudiamo tutto Basta E finch'erano le parole Finch'era la battutina Finch'era si poteva Sottendere una trama Ben più complessa Finch'era allusivo Ma poco E' fragranza di reato Proprio Chiam Cora Pazziai Ma allora Tu non capisci E' l'affetto paterno Così l'affetto paterno Dovito Carmichia Che schifo Che avevo mi baciato davvero C'è un po' Bravo Gigi Bravo Gigi Bravo Gigi Mi son girato semplicemente Perché sentivo un po' Come tutto un po' lontano Come se avessi Dei fischioni Nelle orecchie Ho vettato No? Sofìa Non sentire Morgan Che Morgan È come la maga circe Oh Grazie Però non me ne fai un cazzo C'è Gigi Io adesso Sono io che ho bisogno Ho proprio Ho proprio bisogno Guarda Sofia Ho proprio bisogno di te Ho proprio bisogno L'ennesima sedicenne Non è la mia squadra Che sono io proprio Non è che io Non abbia delle minorenne Che suonino E cantino il piano insieme Non ho proprio bisogno Sono proprio io Bella questa Bella questa Bravo Sicuramente Morgan Mi darebbe Un sacco di possibilità Sì E sia giusto il papillon Che fai? Tentacolare Solo che? Però Mi ha convinto Mi ha convinto di più Gigi Gigi Sai come l'ha convinta? Voglio sapere un cazzo Tutto quello che vuoi Tutto quello che vuoi Guarda Lo se ne sta portando Dimentichiamoci di questa esibizione Andiamo Possiamo memare? Ci sono i tuoi amici davanti al bar Ti chiedono se è maggiorenne E tu li tranquilliti Dicendo non ci pensare Ho sentito un po' di jazz Lei l'ha sentito il jazz? Le l'hai fatto sentire il jazz? Si è venuto proprio da me A suonare in pieno parte Poi Ti senti privilegiata Ma l'ha fatto già con tutte? Lo fa con tutte Enfisemico anche Non ci sono uscito qua Killelauto ieri sera No ci siamo incontrati Nello stesso ristorante Ma non di sera? A Killelauto Perché Rolls Royce A Killelauto A parte che è diventato Enfisemico anche Guè Ma poi Vabbè No ma vengo con te I blocchi Spingo io Ah bravo Ma che questo non è della Rozzi Stasera Eh ne fatti Comunque raga se fosse stata della Rozzi sarebbe strafichissimo Vabbè ma un pazzo Ma che cazzo fai? Vabbè era la gag violenta Quella fisica che piace agli italiani Se ti ho spinto che come una carrozzella Quasi amici Vabbè quasi amici Andiamo avanti Quasi amici delle guardie Ma no tu E tu e guepe kenio qua E' fisemico guepe kenio Che vado dal pop Eh? Alla rap L'hip hop Latino Reggaettone Reggaettone? Reggaettone Comentata la Lamborghini Dai Lambo E' tua Stavo in Corea A fare le bamboniere C'ho fame Era meglio che me ne stavo In Corea A fare le bamboniere Si girerà nessuno Ci credo che non ci girerà nessuno Fa reggaeton E' vero neanche la Lamborghini Ma non ha neanche tutta sta Ma è tuo Ma non si è girata per Ricky Martin Si gira per questo qua Vai con il ritornello A fare le bamboniere C'ho fame A fare le bamboniere C'ho fame E l'entra No 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 Che cazzo Cos'è che sta voce da Però sai che secondo me Se avesse portato Hai visto il fallimento? Se avesse portato l'originale E cioè Di Snow Non la conosci No 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 Di Leone di Vernia Di Leone di Vernia L'originale è di Leone di Vernia Assolutamente Se avesse portato l'originale di Leone di Vernia Secondo me avrebbe avuto più successo E hai visto il fallimento negli occhi suoi? Negli occhi suoi? Negli occhi suoi Hai capito Hai visto? Vediamo Il padre che dice Te l'ho detto che guarda le gattane Da femminie Così dice? Il padre si ascolta solo Califano Di cosa stiamo parlando E se il piccazzo li toglie i cilini Ti spara pure il mok Come? Ma non è vero signora Ventura Dai La prossima volta La versione originale Cioè non è che ha 45 giri anche lui Come Leone di Vernia Che si prende la briga di Ti spiego Ti spiego Non mi devi un pericoglione Perché ti taglio la faccia No Comunque santi bene Non è vero Di default siete tutti bravi Eh per carità Quella è la cosa che si Il ragazzo si impegna Ma non è una spiegazione Non mi sono girato perché canti bene Che ragazzo si impegna Ma non è intelligente Ho capito Diciamo l'approccio Ero forse leggermente delicato Mi aspettavo un po' più di fuego Eh Fuego 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 La tua tua passione Immagino poi il reggaeton Dalla fregna Sì in verità ho la passione Per la musica La fregna A 60-60 gradi Ah? A 60-60 gradi Credo che dentro di me Si sia qualcosa di diverso Rispetto a quello che mostro Di solito Bravo Bravo Che ti porti dei amici da casa Non vale Quello che ho sentito io Da cultore del genere Ma secondo me Eri proprio A livello di stile Eri da un'altra parte Rispetto al genere Esatto Doveva portare qualcosa di trash Forse Essere più nel groove Ci stiamo giustificando tanto Ragazzi Te lo stanno dicendo Tutti i modi Sei bravo Però La canzone è cantata male Quattro i coach Che non si sono girati Io compreso Mi è un po' dispiaciuto Quando ti ho guardato Perché ho visto che anche in te C'era una delusione Madonna che tristezza però Guarda da questo punto di vista Tu hai cercato di fare qualcosa Per andare incontro a loro Sì Secondo me Sì Forse non hai fatto la scelta giusta Esatto Perché cercare di assomigliare a qualcosa Ma ti ho deciso una tristezza Che non so Sai che ero Più triste di questa scena C'è solo lui che canta il regaton Ciao Andrea Ciao Noi non ti vogliamo neanche noi qua Quindi vai tranquillo Vai Sì ma io non è che Se uno mi porta a Reddianchi Che il mio amore platonico Mi devo già per forza Cioè lei è innamorata Di Da Dianchi Innamore platonico Platonico Romanticeria Romanticismo Sì vabbè Ma lo dite a tutti Che canterò molto bene Non vale sta cosa Era delusissimo Per neanche avere un attimo di severità Un no È Un sì Detto male Io ti consiglio Vabbè io ti consiglio Di andare a cercare A fanculo Bene Ragazzi ecco il fatto che Adesso Andrea andrà a cercare la sua voce In quell'indirizzo sacrosanto Che lui ben sa Sì anche Questo no È un consiglio Non davanti a me Vi salutiamo ragazzi Sì è fatto a una certa A mezzogiorno Io direi che andiamo a mangiare Perché ti gratti Ti è salita anche a te la roba Del tipo Mi chiamate Solamente tanta angoscia Che adesso Sono un po' pleuritico Anche io Ragazzi Noi vi salutiamo Ci vediamo domani Con la prossima puntata Di To the voice In 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 To the voice